I poeti barocchi Il rifiuto del petrarchismo La lirica del Seicento nasce come reazione al petrarchismo. Essa prende infatti le distanze da quel diffuso fenomeno di imitazione ripetitiva della poesia di Petrarca che si era diffuso a partire dal secolo precedente. Mentre i canzonieri del Cinquecento tendevano a riprodurre sia sul piano del contenuto sia su quello formale e lessicale il modello petrarchesco, i poeti barocchi rifiutano gli stereotipi del classicismo rinascimentale sostenendo la necessità di una poesia innovatrice, dei risultati non monotoni né prevedibili. La ricerca della meraviglia Il capofile della lirica barocca è Giovanni Battista Marino che diventa il modello di un'intera generazione di poeti suoi seguaci, i cosiddetti marinisti. Ad accomunare le diverse esperienze di Marino e dei suoi marinisti è la ricerca della meraviglia. Questa consiste nel produrre effetti di stupore e di sorpresa attraverso l'innovazione sia nel linguaggio sia nei temi trattati. I poeti barocchi prediligono infatti l'uso di un linguaggio metaforico ricco di concetti ed immagini accentriche in una costante ricerca di musicalità che si realizza nelle ripetute assonanze e allitterazioni. Insieme alla metafora compare un uso sovrabbondante di altre figure retoriche come le antitesi, gli ossimori, le iperboli alla ricerca del concetto difficile e prezioso, del gioco di parole, di ragionamenti astrusi, cioè di pensieri che risultano difficili da capire a causa dell'eccessiva ricercatezza. Dal punto di vista contenutistico si allarga il campo dei temi poetabili. Si arriva cioè a descrivere anche situazioni a soggetti stravaganti o abitualmente ritenuti impoetici. La rappresentazione della figura femminile La tendenza all'innovazione si fa evidente soprattutto nella poesia d'amore. All'immagine tradizionale della donna proposta dal petrarchismo, i poeti barocchi contrappongono figure femminili considerate in una gamma d'aspetti più ampia e complessa. Oggetto di rappresentazione non è più solo la donna nobile dai capelli biondi e dagli occhi celesti, ma anche quella nera o orientale, vecchia o brutta, socialmente umile, osservata nelle diverse situazioni quotidiane. La donna viene spesso anche ritratta nei suoi difetti fisici. Nei canzonieri barocchi non mancano donne calve e sdentate, zoppe, nane, piene di pidocchi. Viene così portata l'esasperazione, una tendenza già presente nel filone della poesia comico-parodica e nell'anticlassicismo cinquecentesco, in una ricerca sempre più accentuata dell'elemento stravagante. L'interesse per gli oggetti e i fenomeni naturali L'attenzione dei poeti barocchi si sofferma anche su oggetti della quotidianità, pietre, piume, pettini, specchi, occhiali, che possono essere interpretati come simboli o allegorie. Ad esempio, nei canzonieri barocchi è spesso presente l'immagine dell'orologio, che da una parte suscita interesse per il meccanismo dei congegni tecnici, e dall'altra permette di paragonare il passare del tempo scandito dalle lancette a quello della vita umana, che trascorre inesorabile con la sensazione incombente della morte. Questo è ciò che accade, ad esempio, nel sonetto Orologio da Rote, di Ciro di Peirce, 1599-1663 Uno tra i maggiori poeti marinisti Sempre in nome della stravaganza e della meraviglia, l'interesse dei poeti si allarga a fenomeni naturali, ritenuti sino ad allora non degni di costituire tema della poesia, come terremoti, inondazioni e siccità, che compaiono, ad esempio, nella raccolta Scintille poetiche di un altro marinista, il predicatore gesuita Giacomo Lubrano 1619-1693 Giovan Battista Marino Nato nel 1569 a Napoli, dove inizia a comporre i primi versi, abbandona la città natale dopo essere stato incarcerato per aver sedotto una ragazza e per aver falsificato documenti. Soggiorna a Roma 1600-1606 e a Ravenna 1606-1608 pubblicando tra il 1602 e il 1603 le prime due parti delle rime, riunite insieme a una terza parte, nel 1614, con il titolo di La Lira. Si trasferisce poi a Torino alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, dove ha una violenta contesa, prima sul piano letterario e poi su quello personale, con il poeta genovese Gaspare Murtola, che tenta in vano di ucciderlo. Nel 1611, Marino trascorre di nuovo alcuni mesi in carcere per motivi rimasti oscuri. Quattro anni dopo si reca a Parigi, alla corte di Maria de' Medici, accolto e celebrato come il più grande poeta vivente. Il soggiorno francese coincide con la revisione e la pubblicazione della maggior parte delle opere, che consacrano definitivamente la sua fama. La raccolta di prose intitolate Dicerie Sacre, 1618, La Galleria, 1619, che è una descrizione in versi di opere d'arte, La Sampogna, 1620, e il poema mitologico Adone. Raggiunto, soprattutto per merito di quest'ultimo, il culmine della celebrità, Nel 1623, Marino rientra in Italia, ottenendo trionfali accoglianze a Torino, Roma e Napoli, dove muore nel 1625. La personalità e la poetica La poetica di Marino, che è il principale artefice della diffusione del gusto barocco nella letteratura italiana, è condizionata innanzitutto dalla sua personalità, ambiziosa e spregiudicata, alla continua ricerca del successo e dell'affermazione personale. Resosi conto della svogliatura del secolo, cioè della noia dei lettori nei riguardi di forme ormai prevedibili e ripetitive, Marino elabora una concezione di poesia capace di suscitare l'interesse del pubblico. È del poeta il fin la maraviglia. Chi non sa far stupir vada alla striglia. Chi non riesce a stupire il lettore vada a fare lo stalliera. Marino intende dunque rompere le regole della tradizione per adeguarsi alle richieste di novità del pubblico. Per stupire il lettore e sperimentare al massimo in letteratura, Marino passa con assoluta disinvoltura dal sublime al comico, dallo stile celebrativo a quello satirico, dalla lirica devozionale all'invettiva. Egli intende insomma esprimere in poesia tutti i molteplici aspetti del reale. Tale concezione si ritrova nelle liriche della lira, che con la varietà dei temi trattati dimostrano l'intenzione dell'autore di affrontare qualunque argomento poetabile. Marino cerca inoltre di ottenere effetti stupefacenti, soprattutto attraverso il linguaggio, che si arricchisce di analogie, assonanze, simmetrie e metafore. Tommaso Campanella Particularissimi sono poi gli scritti del Domenicano Tommaso Campanella, 1568-1639, per il quale la poesia è uno strumento di conoscenza spirituale, che conduce alla scoperta dei collegamenti tra la realtà terrena e gli elementi metafisici. Le sue poesie filosofiche sono da collocare tra i risultati più alti della poesia italiana del Seicento. Perseguitato dall'Inquisizione per le sue posizioni non allineate all'ideologia della controriforma, Campanella inoltre elabora un complesso pensiero filosofico-politico, illustrato compiutamente nella Città del Sole, in cui delinea un'utopica città ideale, dove un preciso modello di organizzazione sociale dovrebbe garantire la giustizia e l'uguaglianza. Gabriello Chiabrera La vita Nato nel 1552 a Savona, dove morirà nel 1638, Chiabrera riceve una formazione letteraria prima presso le scuole dei Gesuiti e successivamente a Roma, dove frequenta la corte del Cardinale Cornaro e dove conosce Torquato Tasso. Vive perlopiù nella sua città natale, eccetto soggiorni più o meno prolungati in molte città italiane, Torino, Mantova, Genova, Firenze, dove è chiamato a comporre opere celebrative. La fortuna della sua produzione letteraria gli assicura prestigio sociale e cospicui stipendi, che egli accetta pur senza legarsi agli obblighi della vita di corte. Le opere La vastissima produzione di Chiabrera comprende diversi generi letterari, poemi epici, tragedie, favole boscherecce, poemetti sacri e profani, e inoltre autore di un'autobiografia e dei dialoghi dell'arte poetica, in cui vengono esposti fondamenti tecnici e metrici a cui egli intende rifarsi, ispirandosi soprattutto alla letteratura classica greca e latina. Pur essendo distante dalla poesia marinista, di cui rifiuta gli arditi giochi metaforici, Chiabrera ricerca comunque lo stupore della novità, soprattutto attraverso lo sperimentalismo metrico, alla continua ricerca dell'armonia e della musicalità. Il componimento poetico più noto di Chiabrera è Belle rose porporine, tratto dalle canzonette, nel quale una natura idealizzata riflette la bellezza della donna per la quale il poeta soffre d'amore. La lezione ti è stata utile? Clicca su mi piace! Non perderti poi tutti gli altri contenuti, iscriviti al mio canale YouTube. A presto!